Un po' tutti i geni del Mediterraneo. Ma lo sta pizzi che sta a dire? Siamo con l'administrazione originale e amica mia su Facebook Ma di chi è quel mascherino? Bossacce, ci credete ma non si sapete ci siete! Eh, non lo vedo, non lo vedo Devo dire davvero interessante Grazie all'assessore per il testare lo pizzi Sempre fra un mese Grazie a tutti voi di essere stati qui e di essere ancora qui potete ancora ballarvi con quest'ultimo pezzo e ballare E vai maestro, parti! I cardi amundi sono Maestro Luigi Torresello, la chitarra Giorchino De Filippo, D'Amorello e voce Lidia Buffone, la voce Agostino Reo, maestro Agostino Reo, la fisarmonica Silvia Ciardo alle danze Silvia Ciardo alle danze Lidia Buffone alla voce Eleonora Buffone, special guest alle danze Grazie anche Federica Caciuna, tour manager Grazie a tutti Buona Rocca, alla prossima Alla voce, alle percussioni La voce del nostro concerto Alessio Russo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.